I figli maggiori della famiglia Banks, Jane e Michael, fanno fuggire tutte le tate assunte dai genitori. Una strana donna arriva volando dal cielo attaccata ad un ombrello, presentandosi alla loro porta. È la nuova governante dei quattro bambini. È Mary Poppins e viene subito assunta. Mary, severa d'austera, ha un cuore buono e sa usare la magia. Mary Poppins fa vivere ai bambini avventure incredibili per poi volare via in cielo con il suo ombrello, senza salutare i bambini ma lasciando a ognuno un ricordo del suo passaggio.